La riforma del trattato di Schengen, come chiesto da Italia e Francia. Nel vertice europeo è stata approvata una serie di modifiche al trattato sulla libera circolazione in Europa, a partire dalla possibilità per gli Stati membri di reintrodurre i controlli alle frontiere in casi eccezionali. Nessuna decisione unilaterale, però ci si affiderà a un meccanismo comunitario, ancora da finalizzare. Dobbiamo migliorare le attività di valutazione, comunicazione e supporto agli Stati membri che si trovino in difficoltà, e che chiedono l'intervento della Commissione perché possa valutare la situazione insieme agli esperti nazionali. Il premier danese qualche settimana fa si è trovato sul banco degli imputati perché nel bel mezzo della lite italo-francese annunciò il ripristino dei controlli alle frontiere del piccolo paese nordico. Oggi condivide la linea adottata dal Consiglio. Se le frontiere esterne subiscono una forte pressione, serve qualche forma di eccezione alla libera circolazione anche per consentirci di conservare un certo appoggio popolare all'idea stessa di Schengen. Frontiere danesi a parte, l'accordo riguarda soprattutto l'Europa meridionale e orientale, previsti una serie di accordi di partenariato con i paesi mediterranei, il rafforzamento di Frontex e anche un piccolo passo avanti verso una politica comune d'asilo. Tutto fatto? No, mancano ancora i dettagli e spesso i problemi si nascondono proprio lì. Bisognerà vedere ora come sarà riscritto il trattato di Schengen. Le regole dovranno essere molto chiare per non lasciare spazio alla libera interpretazione dei governi. Margherita Sforza, Euronews, Bruxelles.